Vedere i lavori che stanno procedendo, quindi una opera attesa da tanti anni per le nostre comunità, per tutta la comunità, comunque anche della Rendena Chiese, perché è una strada di collegamento, ma proprio anche per le giudicari esteriori, veramente importante, proprio per i rapporti che abbiamo con queste valli. E questo grazie alla provincia, all'assessore e al presidente che hanno portato avanti questa opera strategica.